Oggi questa giornata dedicata ai marinai caduti in mare e alle altre vittime del mare, quale messaggio possiamo dare? Ogni anno ci ritroviamo a stare accanto ai familiari, a tutti coloro che hanno voluto bene, hanno amato queste persone che hanno dato la vita e hanno perso la loro vita in mare. Il messaggio fondamentale è quello che si ha appunto di pensare alla vita, l'importanza della vita donata e quindi dare un significato, un senso profondo a tutto quello che ogni giorno ci troviamo a condividere con gli altri. In fondo queste persone sono morte nell'esplettamento del loro lavoro, cioè amando i loro familiari, lavorando anche per il bene di questa città. Il monito allora è certamente quello di vivere meglio, donandoci gli uni agli altri per quanto è possibile. Ecco, questo credo che sia anche la parola più bella di consolazione che possa arrivare alle famiglie di coloro che sono morti in mare.